Pioggia battente, raffiche di vento, un mix che talvolta può rivelarsi pericoloso, come è accaduto questa mattina a Palermo. Paura tra via Messina e via 20 Settembre, dunque in pieno centro, quando alle 10 di stamani, mentre imperversava un violento temporale, un grosso ramo si è staccato da un albero cadendo sulle auto parcheggiate lungo il marciapiede. A rimanere danneggiata una Fiat gialla, sul posto sono intervenuti anche il 118 e un'auto medica. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La strada è stata però chiusa al traffico dalla Polizia Municipale. Stesso rischio in corso calatafimi, dove altri rami si sono staccati cadendo sulla strada. Nessun danno in questo caso. Ci sono stati problemi però anche ai collegamenti ferroviari tra Palermo e Punta Raisi a causa di uno smottamento del terreno sotto i binari. Due treni sono stati soppressi, gli altri viaggiano con grande ritardo. Sempre pioggia e vento all'origine di un incidente sulla Palermo-Mazzara del Vallo. Un tir si è ribaltato nei pressi di Carini e si sono formate lunghe code. Non va meglio sul fronte dei collegamenti marittimi. Isolata Ustica sono arrivate, sia pure con ritardo, le navi da Napoli e Genova. Intanto sono numerose le segnalazioni e le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco di Palermo. Il vento minaccia soprattutto calcinacci e cartelloni, soprattutto in centro storico. Le previsioni parlano di raffiche forti, almeno fino a domani.